E' stata aggredita ad una gamba da un pitbull scappato dal recinto nel quale era custodito. La denuncia da parte di una 22enne che si è trovata con tre cani aggressivi nel piazzale del proprio palazzo. All'arrivo della polizia la giovane ha raccontato dei tre cani che intimorivano sia lei che un'altra donna. Giunto il proprietario degli animali è stato accertato che non avevano microcippatura e nessun controllo veterinario. Al momento non è stato recuperato nessuno degli alemani in questione che si sono dispersi nelle campagne limitrofe.